ciao a tutti ragazzi bentornati oggi nuovo video auto moto e mezzi abbandonati dopo un bel po di tempo guardate un ritrovamento tutto italiano una lancia y completamente devastata non si bella madedra mille 6 e anche lei messa malissimo carica di cemento ma abbandonata che peccato e poi un'auto poco conosciuta una da ev non conosco il modello se voi lo conoscete scrivetelo nei commenti anche lei non riesco a capire quale sia il modello anche perché di da ev non me ne intendo bene ragazzi iscrivetevi al canale lasciato like condividete aiutateci a crescere ciao a tutti alla prossima